ciao a tutte e ciao a tutti benvenuti e ben ritrovati allora mi vedrete vestita e pettinata come il video precedente ma avendo un pochino di tempo ho deciso di registrare questo video sentirete dei rumorini molesti perché questa pupi ha deciso di farsi le unghie mentre io registro il video ma va bene così mamma che capelli che ok un po come il tempo oggi c'è una giornata grigia piovosa e umida allora innanzitutto vi dico di quale profumo vi voglio parlare e poi vi dico un po le sensazioni mi ha trasmesso questo questo profumo era da tanto tempo che non provavo una sensazione del genere io tanti profumi lo sapete chi mi segue da anni lo sa tanti tanti profumi ma sono pochi i profumi con cui è nata una vera e propria relazione d'amore rapporto d'amore allora in particolare parliamo oggi di bohemian wood di zara allora questo profumo fa parte della linea chapter for e ne ho diversi della chapter 123 insomma questo profumo quando ho deciso di acquistarlo era perennemente sold out finché sono riuscita a trovarlo da zara a messina perché da zara a catania ultimamente andavo spesso non c'era mai è aumentato il prezzo diciamo che forse fino all'anno scorso erano 17 95 questi profumi sono dei formati da 80 ml adesso il prezzo è di 22 euro e 95 22 euro e 95 per 80 ml di prodotto le boccette sono sempre le solite bellissime ma questo in particolare ha anche una colorazione che è veramente spettacolare poi vi dirò le note e tutto diciamo che come nella vita ci sono degli incontri che noi facciamo che sono diciamo l'evoluzione poi di questi incontri quello che poi questi incontri diventeranno qualunque cosa questi incontri poi diventeranno che diventino un'amicizia che diventino un rapporto di stima che diventino un rapporto proprio d'amore sono comunque indipendenti prescindono da qualunque cosa dal ceto sociale dal dall'orientamento sessuale dal genere sono degli incontri che sono più delle affinità elettive e vi stavo dicendo che questo mi capita raramente con i profumi cioè mi innamoro dei profumi mi piacciono però sono pochi quei profumi con cui si crea proprio un legame che non ha un nome che non ha genere che non ha non ha forma si crea proprio un legame un'affinità ed è quello che è successo con questo profumo io l'ho acquistato a scatola di usa perché c'erano i tester di tutti tranne che di questo però ovviamente ho letto le recensioni ho letto la piramide olfattiva ed era un profumo che mi sarebbe comunque piaciuto però quando c'è stato l'incontro quindi questo diciamo incontro intimo se vogliamo no col profumo perché l'ho sentito a contatto con la mia pelle mi sono cioè mi è piaciuto non so esprimere adesso chiaramente quello che è successo però me ne sono follemente innamorata e ho provato proprio una sensazione di piacevole una sensazione di piacevolezza scusate di unione proprio a me questo profumo mi fa impazzire ecco detto voi in termini spiccioli quindi ripeto nulla a che vedere col costo col marchio c'è proprio un discorso di affinità di fragranza che evidentemente mi ha trasmesso qualcosa aprendo una breve brevissima parentesi sempre sul discorso profumi io faccio poi delle riflessioni anche in base ai commenti che ricevo ci sono sempre quei commenti che sono un po denigratori della fascia low cost denigratori della fascia commerciale in cui si inneggia comunque sempre al profumo di nicchia che ripeto io ho anche profumi di nicchia però io sono a me piace tutto io sono inclusiva quindi non faccio distinzione alcuna e in cui appunto mi si dice ma come fa piacerti un profumo da 10 euro si sente solo l'alcol si sente questo allora innanzitutto è una questione di emozioni di sensazioni che un profumo riesce a trasmettere e questo ovviamente non è mai quantificabile non gli possiamo mai dare un prezzo a questa cosa è un qualcosa che ha a che fare proprio con con la sensibilità con le emozioni col gusto personale e poi un'altra cosa allora il profumo sicuramente racconta tanto di noi anche attraverso il profumo la gente la gente riesce a ricordarci però la cosa importante è che ci si ricordi di noi e comunque in realtà è così la gente poi si ricorderà di noi per quello che riusciamo a trasmettere con la nostra sensibilità con la nostra simpatia il nostro modo di essere il nostro essere delle persone per bene e dopo si ricorderà di noi per il nostro profumo quindi se noi siamo delle persone un po' boriose tracotanti con la puzza sotto il naso insomma e sinonimi vari possiamo indossare anche profumi da duemila euro la gente si ricorderà di noi sicuramente non per il profumo ma per il nostro modo di essere sia che siamo delle persone simpatiche allegre altruiste dinamiche tutto il resto sia che siamo degli antipatici nati e bon quindi dico chiusa questa parentesi cerchiamo di amare i profumi di qualunque fascia prezzo siano di qualunque brand cerchiamo di essere inclusivi non soltanto con i profumi ma in generale nella vita detto ciò torniamo a parlare di profumi oggi sono così sul filosofico spinto allora bohemian wood stiamo parlando di un profumo ad un buonissimo speziato caldo vanigliato in cui troviamo fava di cacao vincenso vaniglia pepe nero legno di agar wood elicriso e cuoio allora io non mi soffermerò assolutamente sulle similitudini con dei profumi ma vi voglio parlare del profumo in sé per sé perché io lo amo follemente allora su di me questo profumo sviluppa una intensissima nota di incenso liturgico ma proprio tanto ed è una cosa favolosa perché me lo rende ancora più mistico ancora più notturno diciamo che stiamo parlando comunque di un profumo molto invernale autunnale questo è un profumo da climi freddi è un profumo da camino un profumo da maglioni a collo alto è un profumo da bevande calde davanti a un camino leggendo il nostro libro preferito non è un profumo da casino estivo quindi da discoteca da festa in spiaggia è molto più un profumo è molto io lo sento molto cupo in cui tutte le note presenti sono espresse nella loro massima intensità incisività densità la vaniglia e corposissima il cacao e fondente polveroso quasi soffocante questa nota di hood mi piace tantissimo perché non la sento così medicinale mamma mia che cos'è poi c'è questo incenso proprio liturgico che mi fa impazzire che gli conferisce un po così di misticità la nota di cuoio io su di me non la sento per niente è una nota che non si avverte su di me c'è tanto incenso tanto tanto cacao tanta vaniglia e sul fondo diventa più sfizioso perché si sente proprio questa nota zuccherina questa nota però di zucchero bruciato molto bruciato caramellato molto croccante è una creazione a parer mio divina in cui proprio la nota del cacao è veramente possente è veramente intensa è veramente dark leggevo che molti si lamentano della longevità della persistenza di questo profumo su di me ha delle performance paurose nel senso che dura tutto tutto il giorno si aggrappa proprio è una compagnia è veramente una presenza che si sente costante non sicuramente ammorbante perché è un profumo che nelle prime ore insomma è abbastanza potente però poi si alleggerisce tantissimo pur essendo comunque presente io continuo ad annusarmi continuo a sentirlo è una cosa semplicemente favolosa io mi sono innamorata follemente di questo profumo credo che sia ormai per me un profumo non che mi possa rappresentare che possa essere il mio profumo firma perché io ne uso veramente tanti ma è sicuramente uno di quei di quei profumi che è entrato a far parte dei miei profumi per la vita elegante misterioso un po proprio come il suo nome così bohemian così che fa pensare un po a qualcosa di stravagante di artistico di magico di creativo davvero un profumo che non potete lasciarvi sfuggire è tornato sia online ed è ovviamente presente almeno chi è di messina può provare da zara a messina perché insomma lo trovate dunque video finisce qui spero che che vi sia piaciuto vi mando tanti tanti baci vi voglio bene grazie per esserci sempre e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao